allora prima di passare all'esercizio a questo punto un esercizio sulla programmazione funzionale trasformiamo l'esercizio di prima in programmazione funzionale e volevo rispondere a una domanda che mi è stata fatta in chat appena torniamo dalla pausa può ripetere a cosa serve i tre parametri della reduce passata nell'esempio della media quindi essenzialmente credo questo giusto? se chi ha fatto la domanda è qui allora questo parametro in questa istruzione non serve a nulla ma proprio niente perché vedete non lo usiamo usiamo sum, usiamo price che è il secondo parametro e usiamo array però perché dobbiamo metterlo? perché è un parametro che è prima di array e dopo price quindi dobbiamo per forza metterlo poi non lo usiamo perché è una funzione definita in maniera ordinata quindi il terzo parametro bisogna indicarlo come del quarto e quindi è messo per quel motivo perché appunto array viene dopo e non array serve essenzialmente questo esempio tra l'altro è preso da questo sito opensource.com article 17.6 functional javascript dove credo ce ne siano anche altri e o quantomeno ispirato da quello di questo sito allora due domande array length aumenta dinamicamente man mano che procediamo all'accumulazione? no array length è la lunghezza dell'array originale e rispondo così anche alla domanda è la lunghezza dell'array originale quindi l'array che è restituito da map in questo caso se avessimo vehicle.reduce array sarebbe vehicle quindi questa è la lunghezza dell'array dopo l'operazione di map e quindi non aumenta ma è fissa perché sarà grossa 1, 2, 3, 4, 5 quindi questo anche negli altri c'è un parametro ce ne sono due ma negli altri c'è un parametro che è il valore corrente in questo caso è price del ciclo sull'array diciamo così un parametro che è l'indice del valore corrente e un parametro che è opzionale e l'altro parametro opzionale è l'array a cui l'intera operazione si sta rifacendo quindi l'array originale che in questo caso è l'array di map questo è lo stesso per filter è lo stesso per map questi due parametri gli ultimi due funzionano allo stesso modo sì allora la sequela di domande ma non dovremmo prima sommare tutti gli elementi e solo alla fine procedere con la divisione sì quello è il modo classico di fare la media ma è anche possibile fare la la media passo passo quindi fare a ogni elemento però sì quello sarebbe stato io questo è preso da questo sito io l'avrei onestamente scritto così se l'avrei scritto io l'avrei scritto così l'avrei messo la divisione fuori invece di farlo passo passo ok ripeto questo è estratto da questo sito quindi suppongo non ci sia solo esempio ci saranno anche spiegazioni e suppongo ci sono anche altri esempi quindi se volete potete dare sicuramente un'occhiata anche a questo sito opensource.com article 176 functional javascript ma torniamo al nostro a questo punto esercizio diciamo che quest'ora probabilmente la finiremo con questo esercizio o quasi allora proviamo a implementare questi metodi sia quelli che abbiamo fatto sia quelli che non abbiamo ancora fatto in maniera totalmente funzionale per vedere anche la differenza tra la versione funzionale e la versione non funzionale ormai l'abbiamo capito cosa possiamo fare e poi alla fine i risultati in un certo senso sono gli stessi è solo un modo diverso diciamo così di scrivere del codice allora fatemi solo scrivere quali sono i metodi add find add find poi abbiamo after date così giochiamo anche di nuovo con le date list by date list by score list by score e average ok ora proviamo a rivedere sia i metodi che abbiamo fatto sia quelli nuovi e immaginarci da un punto di vista funzionale l'add potevamo scriverlo in maniera diversa in maniera funzionale secondo voi potevamo fare un metodo add in maniera funzionale no anche secondo me no quindi ok perché l'add deve fare solo un'aggiunta all'array poi potevamo usare push potevamo usare shift però alla fine facevamo un'aggiunta all'array find possiamo riscrivere find in maniera funzionale sì benissimo allora facciamolo come potremmo scriverlo cosa usiamo map list map filter reduce filter qualcun altro dice qualcosa altro filter siamo d'accordo su filter quindi return cosa scrivo dopo return sum no o meglio non solo sum perché sum è solo un test ci dice se c'è almeno un elemento ma noi in find noi in find vogliamo l'esame vogliamo le informazioni sull'esame sum ci dice se c'è almeno un ci direbbe se c'è almeno un esame con quel codice ma non ci dice quale però magari uno fa prima il sum poi una volta che lo trova fa cos'altro ecco se dovessimo fare questo info potremmo farlo solo col sum quindi cosa scriviamo filter e ok cosa scriviamo qui io vedo che state scrivendo quindi non vi lascio scrivere ma grazie a tutti allora quasi allora quello che ha scritto quello che ha scritto Alessandro in chat quasi quasi perché non abbiamo exam qui abbiamo un single exam esatto il filter l'ho fatto su this.list giustamente e poi c'è un altro una piccolezza che manca ancora a quella a quell'istruzione che però è abbastanza giusta quindi la scrivo però fatemela scrivere con delle variabili che non siano abc che vanno bene nelle slide però quando programmiamo cerchiamo variabili significative no lo spread non ci serve perché filter restituisce un nuovo array quindi ci pensa già da solo proprio nella definizione della programmazione funzionale questi metodi restituiscono quasi sempre abbiamo visto un nuovo array quindi non ci preoccupiamo quello si preoccupa lui il sort invece non lo fa e quindi dobbiamo farlo noi ma il filter vedete ritorna agli elementi di un array che rispondono alle condizioni quindi filter filter torna un array vuoto nel caso in cui non trovi nulla in cui non filtri niente fatemi scrivere non A però che è bruttissimo chiamiamolo course course.code uguale uguale a code quindi questo è quello che ha scritto Alessandro in chat con course invece di A ma è lo stesso codice this list invece di exam però non è esattamente quello che vogliamo noi perché notate cosa chiede la find restituisce l'esame quindi sì come dice adesso in chat Matteo bisogna almeno fare così perché se no filter restituisce un array un array con tutti gli esami noi sappiamo che c'è un solo esame per forza oppure non c'è niente e quindi bisogna fare così allora se noi salviamo e proviamo a rieseguire questo l'avevamo da qualche parte esatto qui avevamo questo e ops e possiamo anche cercare un qualcosa che non c'è così vediamo se ritorna undefined come ci come dovrebbe come faceva prima quindi lo eseguo e vedete che per 01 abc ritorna applicazioni web 1 e solo questo e per l'altro ritorna undefined perché giustamente non può estrarre un valore 0 benissimo allora andiamo avanti quindi questo è un metodo alternativo vedete in una riga abbiamo scritto quello che prima scrivevamo in 5 in 4 se troviamo la parentesi graffa ovviamente entrambi i metodi vanno bene sono solo metodi diversi di scrivere la stessa cosa list by date si può cambiare in maniera funzionale o è già abbastanza funzionale di suo assomiglia al funzionale no infatti ha già ha già una callback ha già tutta una serie di cose che che ovviamente ci servono allora facciamo gli altri facciamo gli altri tre in realtà list by score è facile se noi guardiamo cosa dice list by score dice idem a list by name ma per valori decrescenti quindi possiamo fare copia e incolla di list by date così ci concentriamo sugli altri due list by score che è uguale ma invece di ordinare per data e a questo punto dobbiamo ordinare per valori dato che quelli sono già numeri sappiamo come si ordina b punto score b punto score meno a punto score in maniera analoga a quello che abbiamo fatto l'altra volta col dovrebbe essere ancora qui qui no questo era ordinamento la più piccola più alto dobbiamo fare l'ordinamento inverso ma è analogo a questo che abbiamo fatto l'altra volta in score ok ora concentriamoci sugli altri due partiamo da questo che l'abbiamo appena visto nelle slide quindi dovrebbe essere facile ritorna il valore il valore la media insomma facciamo così ritorna il valore medio calcoliamo la media calcoliamo la media degli esami indipendentemente da quello che c'è scritto lì calcoliamo la media degli esami non pesata quindi facendo pinta che tutti valgono lo stesso numero di crediti possiamo usare reduce esatto l'abbiamo appena visto nell'esempio come scriviamo anche passo passo grazie a tutti grazie a tutti Oh, sì, ovviamente hai ragione. Dobbiamo prima definire la funzione, this.average, e questo non cambia niente, è sempre uguale al solito, indipendentemente che si usi programmazione funzionale o meno. E non ha parametri, no, quindi va bene così. Ok, in realtà quello che ha scritto Mario va bene in chat, io lo copio, vi permetto ancora una volta di cambiare solo i parametri, i nomi dei parametri, perché così è più contestualizzato, come dire, a quello che stiamo facendo. Non stiamo accumulando, ma stiamo calcolando la media, quindi potremmo chiamare average, per esempio C o course, come vogliamo, così ci ricordiamo cosa sono, cos'è il valore. Uno è la media che stiamo calcolando e l'altro è il corso, da cui dobbiamo estrarre ovviamente il valore, poi facciamo avg più c.score, corso.score, ecco, a differenza di quello scritto in chat, ricordatevi che noi qui il valore, per quello che è anche importante scrivere i parametri con un nome ragionevole, noi stiamo ciclando su una lista. Nella lista noi abbiamo degli oggetti e degli oggetti hanno lo score. Quindi a noi ci serve il numero che è memorizzato dentro la proprietà score dell'oggetto. Quindi dobbiamo fare non... Adesso in chat Mario ha scritto questo, fatemelo copiare e incollare qui. Questo non va bene perché... Questo non funziona qui perché hack è un numero, ma è tutto corso, è tutto un corso. A noi serve punto score, solo lo score. Poi il resto è giusto. Il primo parametro è zero, perché partiamo la media da zero e poi possiamo fare diviso this.list.length. Quindi quando possibile cercate di dare anche... Adesso ovviamente siamo in chat, non è un problema, ma quando possibile nel vostro codice cercate di dare nome alle variabili che siano significativi, soprattutto se le variabili vi servono per ricordarvi che dovete per esempio estrarre un qualcosa perché sono un oggetto. Anche qui si potevano chiamare corso 1 e corso 2, però lì rende meno l'idea perché sono davvero due... Sono corso 1 e corso 2, poi sono corso 2 e corso 3, quindi non rende meno l'idea. Ma qui dove c'è qualcosa che fate dei conti più complicati, in un certo senso, se riuscite a dare risultati, come dire, variabili con un nome più di senso, è più facile può ricordarsi che cosa fanno. Boh, ma questa è la media, direi. Quindi proviamo a stamparla, togliamo questo, tanto non ci interessa, e facciamo console.log di exams.average e dovrebbe stamparci 30 più 28 diviso 2. Il risultato, no? Che in effetti è 29. Ecco, ovviamente noi nel nostro calcolo da media abbiamo ignorato che ci siano le lodi, abbiamo ignorato il peso, però cambiando questa funzione uno poteva fare quello che voleva. Ecco, una cosa che uno può fare quando si rifiscono le callback, prendiamo da qua che c'è un esempio che forse è più facile, prendiamola dalle callback, callback proprio. Ah, in realtà l'abbiamo visto qui, no? Possiamo definire la callback anche al di fuori. Cioè questa function qui potevamo definirla anche qui. Function a. Function bo, sottrazione. E qui passare sotto. Cioè, la callback tipicamente vengono definite in linea, ma se fossero tanto lungo, tanto complicate, si possono anche definire a parte e a quel punto utilizzare laddove vengono chiamate. È raro vederlo, ma si può fare. Ripeto, si fa soprattutto se la funzione è passata come callback che è molto molto lunga, non è solo una riga o due righe. E allora, senza essere lunga, si tende per pulizia del codice, per anche un po' di ordine, a mantenere le cose separate. Un conto è la funzione da chiamare la callback, un conto è la callback che viene passata lì. Quindi si crea la funzione e poi si passa la funzione della callback. Questo vale per tutte, sia la callback sincrone che quella sincrone. Quindi, ripeto, questo lo facciamo senza considerare le lodi, senza considerare il peso, se no dovremmo moltiplicare qui per il numero di crediti e dividere per la somma del numero di crediti. Per esempio, se volessimo fare la media non pesata. Quindi questa è la media non pesata. Ignorando i 30 lodi. O meglio. Contando i 30 lodi come 30. Ok, poi ne abbiamo ancora uno. L'after date. L'after date... Cosa dice? Ritorna una lista di esami con il sottinsieme degli esami dopo una certa data. Quindi tutti gli esami che ho sostenuto dopo il... Non lo so, nel nostro caso, dopo il 15 di giugno. O dopo il 30 di giugno. Come possiamo fare qui? Si può fare questo, secondo voi, in programmazione funzionale? Scrivendo in programmazione funzionale? Sì. Allora, intanto inizio a scrivere il metodo. This.after date, mentre voi scrivete in chat. Con filter, esatto, after date, questo ha un parametro, che è la data. che ha la data. Esatto, con filter e in DGS, perché uno ci serve per la data e l'altro ci serve per filtrare rispetto alla data. Quindi, ormai l'abbiamo capito, return, this.list.filter. Cosa filtriamo? Course, come prima. E dato che anche questo è un dopo, e sappiamo già che esiste un is after, possiamo riciclare la stessa metodo, no? Quindi se course.date is after la data passata. Ok? Oh, date. Vi convince? Ok. Qual è il, se volete, il punto d'attenzione che dobbiamo fare? Perché sennò questo non funziona. Quando lo invochiamo. Quindi adesso andiamo a provarlo, no? Cos'è questo? After date. Sì, il formato della data è più o meno quello con test che pensavo io. Quindi questo è exams.afterdate. Cosa scriviamo qui? Come scriviamo la data? Per il metodo che abbiamo implementato, eh? Dato il metodo che abbiamo implementato, che posso fare così. Così ce l'abbiamo vicino nel codice. E questo è il metodo che abbiamo implementato. Dato questo metodo, cosa passiamo come parametro? La data poi facciamo finta il 16 giugno. Così ce ne ritorna uno solo. Esatto. Djs Esatto. Giustamente. 2021 O meno 06 16 Ecco, perché come a differenza di quello che state dicendo qualcuno sta dicendo in chat? Ok, giusto così. Sì, sì. Perché non posso o meglio, cosa devo fare se volessi fare così? Così non funziona, no? Se con questa seconda riga. Ma come faccio a farlo funzionare? Se volessi proprio scriverlo così. Perché ci tengo a non usare Djs lì. Perfetto. Convertire la data nella funzione. Quindi Djs Date. Questa è ovviamente una scelta diciamo quasi più progettuale, no? Quando quando sa a che fare con questi nuovi oggetti. Chi crea il nuovo oggetto? Lo crea chi costruisce tutto come in questo caso? Oppure lo crea lo creiamo qui perché un'altra opzione che potevamo avere è che qua scrivevamo direttamente così quindi passavamo alla data e poi era lui che convertiva in Djs. Questa è un'altra opzione, no? Ci risparmia tutte le volte che definiamo un oggetto di scrivere Djs e il nome della e la data. Passiamo direttamente alla data e poi ci penso il costruttore a convertire l'oggetto la stringa in un oggetto di tipo Djs per esempio. Queste sono scelte progettuali in alcuni casi può aver senso far così in altri casi può aver senso non far così. A livello di come dire di performance di esecuzione non cambia quasi niente se non niente. io adesso torno alla versione precedente ma questa è ovviamente un'opzione. Se passiamo una data in formato Djs e applichiamo nuovamente la funzione Djs se succede qualcosa di strano temo di scoprirlo cioè temo di sì però possiamo provare visto che possiamo provare quindi passiamo alla data così qua fatemelo rimettere come era prima solo proviamo lì con l'afterdate e innanzitutto vediamo se funziona l'afterdate perché questo ritorna un un array che chiamiamo after list e facciamo console.log after list e poi commentiamo un attimino questi tanto non ci servono allora così non abbiamo anche il find così abbiamo solo quello quindi facendo così noi verifichiamo che funzioni dovremmo trovarci solo applicazioni web e in effetti vediamo vedete in effetti c'è solo applicazioni web se io facciamo la prova metto il 10 giugno dovremmo invece trovarci entrambi infatti ingegneria del software e applicazioni web quindi rimettiamo nel caso in cui ne prendiamo uno solo cosa succede se io questa la risposta alla domanda cosa succede se io riconverto un oggetto djs in djs è dovuta a come viene implementato djs non è ovviamente una cosa di standard possono averlo implementato in maniera da riconoscere che c'è un oggetto djs e non fare niente oppure possono averlo implementato in modo da riconoscere che è un oggetto djs e lanciare un errore perché non è un formato data corretto vediamo io punto sulla seconda invece no quindi cosa succede se passiamo ad un oggetto djs e poi lo riconvertiamo semplicemente niente riconosce che è già un oggetto djs e quindi non fa niente l'hanno implementato hanno fatto questo controllo prima di costruire l'oggetto bene questo però non è una regola generale questo era per dire non è una regola generale dipende come hanno implementato la libreria in questo caso ripeto in questo caso hanno implementato un controllo se è già un oggetto djs non lo riconverto in altri in altri casi questo potrebbe non essere vero però era una prova carina da fare ok vedete alla fine no poi la media qui potevamo calcolarla come l'abbiamo calcolata qui quindi queste di nuovo cinque righe vengono rimpiazzate dal nostro reduce e anche qui di conseguenza qui potevamo usare queste score il primo esercizio che abbiamo fatto sì potevamo usare invece di questo potevamo usare reduce se avessimo conosciuto reduce a questo punto così come nel secondo esercizio che non abbiamo fatto probabilmente si poteva usare anche lì qualcosa di programmazione funzionale senza problemi ok domande su questa parte mi sembra che più o meno ci siamo ok direi di no allora quindi questo l'abbiamo completato possiamo chiuderlo e torniamo allora a parlare iniziamo in questa mezz'ora che manca a parlare di programmazione asincrona prima di farlo fatemi chiudere questo progetto qui con day che si va da file chiudi cartella e fatemi aprire un'altra cartella con degli esempi che useremo oggi giovedì ma soprattutto giovedì che ho messo qui esatto allora questi esempi perché ve lo faccio vedere adesso perché è una cosa facile ma questi sono esempi sono file javascript qualunque vedete che in questo progetto c'è un file package.json e anche un package lock e se noi andiamo a vedere il package.json c'è un po' di descrizione e poi c'è una dipendenza esattamente come c'era prima allora noi prima abbiamo visto che abbiamo fatto npm init per creare questo file e npm install djs per installare djs e aggiungere djs a questa riga a questo file ma ora come facciamo qui a installare invece questo SQLite3 è già scritto in questo file quindi npm install SQLite3 cercherebbe anche di aggiungerlo qui ma qui c'è già quindi sarebbe quasi ridondante e notate anche che quindi qui è già inizializzato il pacchetto qui non c'è la cartella node modules perché questo è appena come se l'aveste appena scaricato da internet da qualcuno allora cosa si fa in questo caso per rendere il progetto funzionante perché se io adesso lancio per esempio queries e faccio node queries .js lui mi dice occhio modulo non trovato quale modulo SQLite3 perché giustamente è presente nel package.json ma non è installato non c'è quella cartella node modules come facciamo a far sì che un progetto sia pronto per essere utilizzato con tutte le sue dipendenze noi adesso ne abbiamo una sola ma se ne avessimo anche 40 useremmo la stessa cosa lo facciamo sempre con npm e con un comando che come suggeriscono in chat che abbiamo già usato che è install quindi npm install quando ha un parametro installa il singolo elemento la singola libreria che vogliamo installare e l'aggiunge a package.json quando non abbiamo parametri va a cercare il file package.json va a cercare le dipendenze indicate all'interno del file package.json e le installa tutte creando così la cartella node modules e adesso do invio vedete che lui scarica ovviamente avete bisogno di internet quando fate install lui scarica e se andiamo a vedere qui ovviamente in package.json non è cambiato niente ma nel qui è comparso tra i file è comparso la cartella node modules che come prima ha tutti in questo caso SQLite ha un po' di dipendenze come vedete ma tra le altre cose c'è anche SQLite 3 e qui se andiamo a vedere il package lock vedete che il package lock è decisamente più lungo di quello che avevamo per date per dayjs perché come dicevo ha anche tutte le dipendenze delle dipendenze eccetera eccetera che si porta dietro SQLite 3 nelle versioni specifiche quindi SQLite 3 per esempio usa sn1 versione 0.2.4 quindi dipende da quelle quindi il package log ha tutto l'albero di tutte le dipendenze che sono richieste da ogni singola dipendenza scritta nel package json quindi è un file importante che serve tanto quanto package json per far funzionare un progetto e adesso se facciamo partire questo query su qualunque roba faccia vedete che non mi dà più errore ma stampa cose che adesso non chiediamoci ancora cosa sono ma stampa cose questo per darvi l'altro pezzettino per cui quando noi vi daremo a volte magari un progetto già preimpostato con un package json eccetera con già magari delle dipendenze per render per farlo partire vi basta dire npm install o npm e se qui noi volessimo aggiungere djs ci basta scrivere npm djs come facciamo prima e lui aggiorna i file package json install djs quindi questo è sempre uguale quindi i due comandi essenziali di npm sono init quando bisogna inizializzare un progetto install senza parametri quando bisogna installare tutto da un progetto già creato con delle dipendenze install qualcosa quando volete installare quello che è specificato come qualcosa all'interno del progetto e renderlo come dipendenze essenzialmente poi ce ne sono molti altri da npm ma questi due sono i più in queste accezioni sono i più usati praticamente ma per SQLite 3 dobbiamo prima installare db browser per SQLite sì sì può essere una buona idea noi usiamo db browser quindi per SQLite sì db browser per SQLite dato che usiamo SQLite potete installare questo software qui che si chiama db browser for SQLite che ha un sito da cui si può download da cui si può scaricare nelle varie versioni per Windows per Mac per Linux ci sono le istruzioni per tutto è un semplice neanche troppo completo visualizzatore ed editor per database di tipo SQLite che vedremo come esempio di programmazione asincrona ed è un software ma ci arriviamo probabilmente giovedì però sì conviene che lo installate questo o in qualunque altra roba che magari avete o conoscete per visualizzare database di tipo SQLite per questo va bene se volete noi durante il corso quando avremo a che fare con un database ve lo forniremo quasi sempre già fatto o già mezzo fatto quindi ci può essere bisogno di guardare cosa succede ma difficilmente adesso a memoria quantomeno difficilmente avrete bisogno di creare un database molto complesso da zero sarà già qualcosa di preimpostato ci sarà se non sempre quasi sempre no non va bene MySQL o altre cose usiamo SQLite perché non perché sia meglio di MySQL ma perché come vedremo ripeto forse giovedì SQLite è un database molto molto snello ed è su file per cui per esempio in questo progetto il database è questo data.sequelite questo è un altro database quindi passando il file da una persona all'altra voi avete tutto il database non ci sono server per far partire non ci sono export da fare non ci sono import da fare è un file si usa direttamente è poco efficiente fosse in produzione dovreste fare un sito da mettere online eccetera ma per lo scopo del corso va molto molto bene perché è molto facile da manipolare quindi usiamo tutti SQLite e all'esame vi sarà richiesto di consegnare un progetto con un file SQLite dentro che abbia il database e le informazioni del database che vi servono per fare funzionare il progetto in modo che sia tutto autocontenuto all'interno di un progetto poi ovviamente si può fare la stessa roba anche come SQL con Postgre eccetera e così via potrebbe fare vedere come creare un progetto allora si possono fare in due modi un progetto se avete un progetto con delle dipendenze partiamo ad altro caso se avete un progetto senza dipendenze non esiste un concetto vero e proprio di progetto vi basta mettere i file dentro una cartella io quello che ho fatto qui in esercizi JS prima di aggiungere questo prima di aggiungere il package era tutto dentro una cartella e Visa Studio Code semplicemente gli dite apri scusate di chiudere gli dite semplicemente apri cartella e questa è una qualunque cartella sul file così potete organizzarlo come volete se invece avete un progetto con delle dipendenze dentro quindi come SQLite o come DJS create sempre una cartella questo è il punto di partenza dove volete voi la aprite sempre con Visa Studio Code così è più comodo e poi aprite il terminale e scrivete npm init e date invio inserite le cose che vi chiedono che vi chiede che sono nome versione descrizione qual è il punto di partenza del progetto l'autore la licenza e ci sono alcuni valori di default e così il progetto è creato poi per raggiungere le dipendenze npm install la dipendenza da installare che viene anche aggiunta al file package.json però il punto di partenza è creato una cartella e metterci dentro i file ho creato una cartella vuota ok allora due parole giuste introduttive sulla sincrono così da ho visto che comunque node modules viene creato sul desktop node modules se hai aperto la cartella da visual studio code così come ti ho fatto vedere con open folder e tu lo crei da prompt all'interno da terminale all'interno visual studio code dovrebbe essere creato all'interno della cartella che è aperto con visual studio code se apri il desktop ovviamente te la crea dove hai aperto la cartella e quella ripeto node modules è una cartella che si può buttare perché si può ricreare in ogni momento dando npm install quindi è una cartella anch'io posso buttare quella che ho appena appena mostrato e ridò npm install e lui ristalla e riscarica tutto e la ricrea quindi è comoda dal punto di vista gli ultimi 10 minuti di quarto d'ora giusto un'introduzione alla programmazione asincrona poi la riprendiamo soprattutto col database giovedì ovviamente programmazione asincrona allora tutto quello che abbiamo visto finora è sincrono ogni callback che abbiamo fatto è una callback sincrona per cui il programma si interrompeva in un certo senso aspettava l'esecuzione della sort aspettava l'esecuzione del filter aspettava l'esecuzione del reduce e poi continuava quindi se l'esecuzione del reduce o del filter richiedeva 10 secondi il programma rimaneva bloccato per 10 secondi perché il filter stava lavorando e solo dopo faceva continuava l'esecuzione stampava l'array filtrato per esempio e questo è l'essere sincrono è tipico di javascript perché javascript in particolare node ma non solo javascript in generale gli engine di javascript sono a single thread sono in un single thread e non possono creare altri thread paralleli quindi il loro modo naturale di funzionare il modo naturale di javascript di funzionare è quello sincrono per cui uno scrive del codice il codice viene eseguito in ordine e se un'istruzione ci mette tre secondi a fare cosa deve fare ci aspettano tre secondi e ripeto non è possibile per esempio creare thread e non è possibile eseguire codice in parallelo nell'engine di javascript però attraverso alcuni meccanismi che vedremo poi è possibile scrivere codice in javascript che si comporti in maniera sincrona quindi noi non creeremo mai non si crea mai in javascript un thread come fate in altri linguaggi di programmazione non esiste l'oggetto thread esistono cose che funzionano in maniera sincrona e queste cose che funzionano in maniera sincrona sono tipicamente callback sono implementate tramite le callback e funzionano diciamo così tramite l'execution environment cioè noi abbiamo detto che javascript è un linguaggio javascript è compilato interpretato da l'engine che per esempio è quello di chrome che è quello di firefox che è quello di di apple per safari eccetera ma questo engine gira all'interno di un ambiente di esecuzione e in questo ambiente di esecuzione ci sono altri componenti per esempio ci sono le API alcune per esempio il questo API indicato qui nelle slide set them out che è un modo per dire questo callback chiamala dopo questo tempo quindi dopo due secondi chiama la callback delete che farà qualcosa questo è qualcosa che funziona in maniera sincrona perché dopo due secondi verrà chiamata questa callback e questo set them out è un API fornita dall'execution environment node è un execution environment i browser sono una famiglia di altri execution environment ogni execution environment quantomeno ogni famiglia di execution environment ha delle sue API che sono in genere specifiche per l'execution environment quindi javascript ha una serie di metodi quelle che abbiamo visto finora che sono standard del linguaggio poi ci sono una serie di funzionalità che invece sono specifiche dell'execution environment per esempio set them out è comune sia all'execution environment node sia all'execution environment browser gli eventi di gestione del click che voi fate magari quando navigate su internet quando cliccate da qualche parte e volete da javascript intercettare quel click quello sono metodi che sono disponibili nell'execution environment del browser ma non di node perché node non è pensato per avere un'interfaccia grafica per cliccarci allo stesso modo la lettura di file da file system o meglio la lettura di input della tastiera quello che in C è la scanf o la system in read line o read in java quello lì quell'API lì esistono in node ma non esistono nel browser perché nel browser non c'è mai bisogno di avere dal prompt di comandi dal terminale la possibilità di leggere la tastiera ci saranno degli elementi nella pagina per leggere del testo che verrà inserito la tastiera ma non direttamente da tastiera dal terminale quindi quell'API sono proprie dell'execution environment node e nell'execution environment browser non ci sono quindi in questo execution environment oltre all'API ci sono altri meccanismi che sono invece comuni tra browser e node e altri tipi che permettono di avere questo comportamento asincrono che permettono quindi di avere per esempio che un timeout che scada dopo due secondi e chiama una funzione dopo due secondi e questo meccanismo fa parte dell'event loop che ripeto vedremo con più calma ma essenzialmente è un qualcosa ci sono meccanismi per cui queste funzioni in questo caso il set timeout viene tenuta da parte per due secondi dall'execution environment e poi a un certo punto viene detto ora puoi essere eseguita perché i due secondi sono passati occhio che ora puoi essere eseguita non vuol dire che questa funzione verrà eseguita esattamente dopo due secondi e quindi il risultato di questa operazione sarà disponibile dopo due secondi vuol dire che in questo caso della timeout dopo due secondi javascript saprà che deve eseguire quella funzione e se non sta facendo altro la esegue se sta facendo altro sincrono bloccante per esempio non può eseguirla perché javascript è single thread quindi nel momento in cui deve eseguirla può essere ancora un po' di ritardo se il programma sta facendo altro poi questo meccanismo lo vedremo anche graficamente quando parleremo degli eventi nel browser perché viene molto meglio nel browser in cui ci sono molti molti più eventi rispetto a node dove c'è praticamente il timeout la lettura della tastiera e la lettura della file system nel browser ce ne sono molti di più quindi ha molto più senso lì capire immaginare come funziona questo evento però al momento è un meccanismo che ci permette di avere nonostante javascript nonostante l'engine sia single thread e quindi sincrono possa fare una cosa alla volta ci permette di avere più cose fatte in parallelo le tecniche asincrone sono molto utili ovviamente non magari tanto per fare un'applicazione desktop ma nel web perché? perché ovviamente il codice sincrono rischia di essere bloccante nel senso che se voi chiedete delle informazioni da tastiera se voi leggete un file lungo dalla rete o dal disco e il sito si congela nell'attesa che questo file da 10 giga venga aperto ovviamente la persona che è davanti al sito vede il sito congelato non può fare niente perché è tutto bloccato in attesa che questa lettura di questo file di 10 giga dal disco completi allora capite bene ed è un'esperienza che voi che quasi nessuno ha su internet di avere il sito bloccato quando si clicca qualcosa e quando si clicca qualcosa e non succede niente per un po' di tempo la reazione che si ha è o c'è qualche problema di rete oppure il sito ha qualcosa che non va e a volte questo qualcosa che non va è il fatto che ci siano delle porzioni di codice che sono bloccanti quindi quando c'è un'operazione che non ritorna immediatamente al browser nel nostro caso clicca un link e invece di aprirsi qualcosa sotto quel link all'interno di questa pagina c'è magari un cambio di una freccettina che mi dice si sta aprendo qualcosa però io non vedo niente per un paio di secondi ecco quello è bloccante perché non mi mostra immediatamente cosa succede non mi mostra neanche carico quindi un qualcosa che dici aspetta un attimo è tutto bloccato se anche clicco da un'altra parte nulla funziona quindi è bloccato in questo senso è blocking e codice sincrono in javascript specialmente su web è tipicamente l'eccezione la normalità per gestire soprattutto gli eventi per gestire la lettura di file per gestire l'accesso al database per gestire l'accesso a uno stream video è quello di avere tutto in maniera asincrona in modo che mentre si gestisce l'accesso al video si può anche chiedere quell'informazione al database e la persona può anche navigare nel sito e compilare un form per esempio o scrivere delle informazioni tutto in parallelo quindi questa asincronicità che quindi si deve unire però al fatto che javascript nell'engine è prettamente sincrono e single thread in qualche modo dicevo codice sincrono e codice bloccante devono essere un'eccezione quando è che può essere accettabile beh quando l'operazione è molto molto veloce un ciclo come abbiamo visto fino ad oggi fino adesso sono tutte cose che sono potenzialmente bloccanti perché se io faccio un ciclo all'interno di un sito web o all'interno di un programma che cicla per centomila volte e fa delle operazioni per centomila volte su un array magari molto grosso ovviamente questo richiede tempo allora se siamo su un terminale magari possiamo aspettare un paio di secondi se siamo su un sito e dopo che clicchiamo da qualche parte questo sito ci mette tre secondi per rispondere magari ci chiediamo se c'è qualcosa che non va e quindi queste cose sono tutte da evitare ripeto può essere un'eccezione quando l'operazione è molto breve è un ciclo di pochi iterazioni non da centomila è un'altura da disco molto molto piccola è un accesso a database con una libreria super ottimizzata super veloce con un database molto piccolo tipo faccio una query ritorno una riga e la libreria ovviamente per fare la query è sincrona non asincrona eccetera quindi con adesso iniziamo a parlare della parte asincrona che fa da padrona a javascript soprattutto nel web e come fa da padrona beh sicuramente con le callback esattamente come quelle che abbiamo visto finora solo che la funzione non si eseguirà subito appena viene chiamata ma si eseguirà a un certo punto nel futuro quindi con le callback e usando qui ci sono alcuni esempi nelle slide di alcune operazioni asincrone che vengono tipicamente fatte con node clic del bottone in un browser quando si va a recuperare un documento da rete o da disco quando si devono gestire intervalli di tempo come il timer quando si interfaccia con i database tipicamente molte librerie per interfacciarsi con i database in javascript sono asincrone quindi quando fate una query in un certo senso dite al database fate questo select e poi dimmi quando è finito non sto aspettare che tu finisca io vado avanti con l'esecuzione del mio programma e questo ovviamente deve essere poi gestito in qualche modo il modo standard è attraverso il modo standard diciamo più vecchio è attraverso le callback e un esempio di programmazione asincrona l'abbiamo già ve l'ho già accennato è per esempio il timer che è utile per rimandare l'esecuzione di una funzione quindi ho una data ho un tempo magari qui a 5 minuti e dopo 5 minuti voglio ricevere una notifica dopo 5 minuti voglio che qualcosa succeda quindi è un metodo che è implementato da tutti l'esecuzione environment che accetta una callback e questa callback però è asincrona cioè viene eseguita dopo un certo tempo che viene specificato qui in questo caso un secondo in questo caso due secondi eccetera quindi molto semplice poi ci sono due metodi per gestire i timer c'è settimeout che lancia una funzione lancia la callback dopo un certo tempo come in questo caso dopo un secondo eseguo console.loga oppure c'è setinterval che fa la stessa cosa di settimeout ma invece di eseguirla dopo un secondo una volta la esegue ogni secondo quindi la ripete periodicamente notate che i valori di timeout sia su settimeout che su settimeout soprattutto ma vale anche per setinterval hanno un limite massimo e questo limite massimo è 24 giorni voi non potete inserire un timer per più di 24 giorni che nel mondo web è totalmente normale perché voi non tenete aperta una pagina internet senza una pagina web senza ricaricarla per più di 24 giorni tipicamente chiudete il browser riabbiate il computer la pagina si ricarica succede qualcosa ci cliccate sopra qualcosa fate nel mondo node potrebbe uno potrebbe immaginarsi un servizio sul desktop o su un server che sta in attività per più di 24 giorni per più di 24 giorni ecco in quel caso non va bene usare settimeout se uno deve avere un reminder lontano del tempo perché appunto ha questo limite di 24 giorni nato pensando al mondo web c'è poi anche un metodo che si chiama clearintervallo una funzione per stoppare un intervallo nel caso ci sia bisogno quindi esegge questo codice ogni due secondi ma ok adesso non farlo più posso cancellare l'intervallo questo ha a che fare con le callback non necessariamente con la sincrono come si gestiscono gli errori nelle callback noi abbiamo sempre visto che c'è la callback che passiamo un parametro e basta non ci sono non c'è un metodo ufficiale per gestire gli errori ci sono solo best practice e la best practice è nella callback quando ci sono due parametri il primo si passano due parametri il primo è per memorizzare l'errore e il secondo è per memorizzare il risultato dell'operazione della callback noi abbiamo sempre usato un solo parametro negli esempi finora ma soprattutto nel mondo asincrono si vedono spesso questa accoppiata errore virgola data ma sono due parametri è una convenzione il primo parametro viene usato per gli errori il secondo parametro per quando errori non ci sono e il database e qui chiudiamo è un esempio tipico di di programmazione assincrona in javascript Node.js supporta tanti database supporta MySQL supporta Postgre supporta tutta una serie di database ma una produzione facile come vi dicevo prima per applicazioni semplici piccoline come quelle che faremo noi è SQLite perché è un database SQL relazionale su file quindi basta passare il file e avete passato l'intero database ovviamente per applicazioni complete o grosse o che devono gestire tanti dati non va bene non è ottimizzato non è da usare in produzione per dire in produzione è meglio usare MySQL è meglio usare Postgre è meglio usare altro però ai fini di questo corso che non è un corso sui database SQLite va molto molto bene anche perché ci permette appunto di passare il file in giro e di modificarlo molto molto velocemente e anche tornare indietro molto velocemente senza avere server da lanciare porte da controllare che siano aperte che siano aperte e cose così e l'abbiamo già visto e qui chiudiamo per interagire con SQLite ci serve una libreria come per le date ci serveva dei UGS per SQLite ci serve una libreria che per il momento perché ce ne sono varie ma per il momento la più utilizzata diciamo la più classica quella classica è questo SQLite 3 che è una libreria e che appunto permette di aprire un database e di fare poi le query del database quindi le select le insert l'update il create table eccetera esattamente come per manipolare insomma assolutamente usando SQL e manipolando tranquillamente il codice il contenuto del database e io mi fermo qui riprendiamo poi giovedì con questa parte su SQLite e con tutta la parte di programmazione asincrona che ovviamente adesso sarebbe troppo tardi da fare domande? ok se non ci sono domande se ci sono potete scriverle su Slack in discussion se non ci sono domande io fermo la registrazione e vi auguro buon appetito